Berlusconi dice di lei che il suo problema è proprio di non avere delle competenze certificate, non si è laureato, non ha svolto dei lavori degni di questa nota, l'ha definita una meteorina, l'ha probabilmente ha perso un po' il buon gusto, lei cosa pensa? Lui mi ha definito una meteorina, probabilmente noi siamo il meteorite che estinguerà i dinosauri. Wow, che stai la preparata, onore a Rocco Casalino che l'avrà scritta, prego. No, no, mi è venuta qui, però torniamo sulla squadra. È una citazione del buon dico. Torniamo sulla squadra.